Signor Ministro, lei è in un governo a maggioranza Partito Democratico e quando voi fate questo decreto dove stanziate 150 milioni di euro per bruciare da qualche parte i rifiuti di Napoli, le ecoballe, si iscrive al bando per portare a casa questi 150 milioni di euro la società A2A che è gestita e governata per la maggior parte dai comuni di Milano a guida per lo più PD e dal comune di Brescia a guida al momento del Partito Democratico. Allora quantomeno mi viene un po' il sospetto visto che il governo PD fa questo provvedimento nel quale sostanzialmente la società A2A che poi gestisce i termorizzatori di Brescia e di Bergamo di Brescia e di Cremona nei quali le cronache locali ci raccontano i cittadini relativamente spadentati da questa possibilità che arrivino i rifiuti dalla campagna vi partecipa. Noi crediamo che a differenza di quello che lei ha appena detto questo non sia una gestione equilibrata perché la gestione equilibrata non è che noi prendiamo i rifiuti dalle regioni inadempienti e che non fanno per nulla raccolta differenziata e li portiamo e li bruciamo in altri territori del Paese anche perché come lei ben sa noi in pianura padana abbiamo il problema dell'inquinamento atmosferico e l'inquinamento atmosferico si può combattere soltanto aumentando la raccolta differenziata e sicuramente non bruciando tutti i rifiuti. Le ricordo tra l'altro che nell'articolo 35 dello Sblocca Italia oltre che al piano nazionale i termorizzatori la cosa più drammatica è che voi avete messo il funzionamento degli inceneritori fino a saturazione del carico termico che tradotto vuol dire se io avessi un'automobile invece che rispettare i limiti di velocità 120-130 all'ora se l'automobile può andare a 260 vado a 260 km orari. È evidente che questi inceneritori bruciano di più, inquinano di più e la gente in Lombardia si ammala molto di più anche purtroppo di cancro.